buongiorno e benvenuti a cosa c'è di nuovo le notizie di oggi mercoledì 8 maggio ma lo smilzo è in galera ma evidentemente c'è qualcuno che sta seguendo le suorme infatti dopo il furto che c'è stato ripreso del camere della pizzeria che c'è in via san marco scuffiott dove è stato ripreso abbiamo avuto modo di vedere un attimo così una foto un po sgranata sabato sera un'altra persona ma noi pensiamo che sia la stessa persona è entrata dentro il ristorante ai doji che avevano chiuso a mezzanotte e dopo aver scassinato tutta la ripresa delle telecamere potete vedere il ladro l'ha ben coperto e oltre diciamo a portare via un po di contante a fare un po di danni e si è portato via una borsa di pesce al momento non è noto chi sia diciamo che un sospettino noi ce l'abbiamo e pensiamo che sia fratello d'arte diciamola così comunque speriamo che le forze dell'ordine riescano a ciuffarlo il proprietario ha fatto la denuncia ovviamente è un disagio il problema è sempre quello solito che sono persone che sono tossicodipendenti ricordiamo che sono molti mesi che non va nessuno in galera per spaccio di droga chioggia ma la droga purtroppo non crediamo che non stia girando e questa è la situazione e niente purtroppo questo è l'ennesimo aggiornamento ovviamente la nostra città rispetto a altre città basta andare a mestre altre parti basta guardare giornali ogni notte ne succede qualcosa però insomma è un peccato che la nostra che tutto sommato è ancora un'isola felice ci siano sempre i soliti elementi che continuano a fare quello che fanno un altro il marchetto penso che abbiamo parlato ieri questi prendono le denunce prendono le denunce ma purtroppo la storia è quella e siamo nello studio della servizio nord est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizio in particolare sul score bonus in interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico super bonus esiste ancora fino al 31 12 2024 l'incentivo è stato ridotto al 70 per cento e fino al 31 12 2025 è stato ridotto al 65 per cento per maggiori informazioni su super bonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie servizi nord est 2.0 via bembo sottomarina di chioggia venezia un auditorium san nicolò pieno di insegnanti ex insegnanti dirigenti ex alunni di più generazioni quello che si è mostrato in occasione della presentazione del libro una scuola per far crescere il paese in occasione del centenario della scuola salvatore todaro di sottomarina e un turbinio di abbracci tra persone che sono state colleghe tra chi fu insegnante chi gli fu alunno in un incontro denso di ricordi che come fulcro hanno avuto proprio questa scuola sorta sottomarina nel 1924 come riportano i mosaici realizzati in stili diversi sui pavimenti dei due atri calpestati in questi anni da migliaia di piedini entusiasti presenti gli autori il professor sergio ravagnani la maestra grazie alla signoretto la cui opera di grande ricerca ha coinvolto un gran numero di collaboratori e dimostra una grande passione ed un grande amore per la storia di questa scuola e per ciò che rappresenta l'intento degli autori era quello di realizzare un fascicoletto ma poi la ricerca ha preso la mano presente per l'amministrazione l'assessore alla cultura elena zennaro il comune di chi oggi ha contribuito per la realizzazione di questo libro credendo fermamente in questo progetto che ha dimostrato la lungimiranza di chi ha voluto mettere un punto fermo sul percorso finora fatto realizzando un libro che tra chi fu insegnante o allievo della todaro rimarrà portata di mano per ricordare a cosa si è contribuito a realizzare molti gli sponsor perché grande è stato l'impegno economico necessario molti tra loro sono quelli che nella todaro hanno vissuto una parte della loro infanzia un progetto vastissimo 100 odaro 100 anni di lavoro sul territorio e di persone di famiglie un progetto che si sta svolgendo su più tappe di cui questa presentazione è la seconda la prima è stata lo spettacolo con cui la todaro si è giudicata al primo posto in una competizione regionale grazie alla quale si è voluto dare risalto alla cultura e la tradizione veneta le altre tappe si svolgeranno all'inizio del prossimo anno scolastico la storia della scuola la narrata il professor Sergio Ravagnan da quando sottomarina era una landa che si sentiva abbandonata tanto da volersi staccare da chioggia al tempo la costruzione della scuola fu uno dei servizi che vennero dati in cambio per rinunciare alla richiesta dell'autonomia sembrava una scuola sovradimensionata al tempo ma già negli anni 50 non fu più sufficiente a contenere il numero di alunni la maestra graziella ha parlato invece dei progetti che hanno coinvolto ragazzi insegnanti ha raccontato dello stupore a cui la ricerca l'ha portata per la ricchezza delle esperienze delle attività ma anche del disagio che ha vissuto ritenendo una grossa responsabilità a riportare il più fedelmente possibile le esperienze rintracciate i progetti hanno visto negli anni un'interazione importante col territorio con le persone che lo vivono che ci lavorano con i luoghi caratteristici grazie anche ad esperienze dirette si è fatto teatro cominciando con piccoli progetti che ora coinvolgono tutta la scuola si è fatta musica poesia si è fatta formazione si è fatto tanto e tanti progetti sono ancora attuali e vengono riproposti dimostrando radici molto forti sul territorio si è fatto tanto e tanto si farà ancora agli autori sono state donate due targhi in ricordo e in ringraziamento del lavoro fatto consegnate da due studenti a rappresentanza di tutti gli alunni di oggi e di ieri che hanno nella todaro la loro scuola dal 1978 a borgo san giovanni a chioggia la pasticceria serenissima propone la sua caffetteria la sua pasticceria artigianale dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze gusta la tua colazione alla pasticceria serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali pasticceria serenissima a borgo san giovanni a chioggia sono passati esattamente tre anni da quando accettivi ha chiuso i bagni a bordo dei vaporetti a lunga percorrenza e ancora non si intravede una soluzione nonostante la recente introduzione di nuovi modelli ibridi osserva erica baldin capogruppo del movimento 5 stelle nel consiglio regionale i bagni dei battelli che servono le isole della laguna sud e nord restano inutilizzabili penalizzando centinaia di utenti giornalieri la decisione di chiudere i bagni fu presa a causa della mancanza di un sistema di smaltimento sostenibile dei rifiuti e quanto mai evidente commenta la consigliere che ciò che sembra temporaneo si è trasformato in una situazione permanente nonostante i numerosi tentativi di sollevare il problema in regione ente competente per il trasporto locale finora non si è ottenuto alcun risultato baldin presenta un'interrogazione urgente alla giunta regionale chiedo alla giunta di intervenire presso ctv per risolvere questo problema che riguarda sì sia gli operatori che pendolare oltre le persone con disabilità e gli anziani particolarmente colpiti in questa situazione l'esponente del movimento 5 stelle non fa sconti la stessa società che ha ammesso la necessità di sostituire alcune unità della flotta per adeguare i servizi igienici alle norme urgenti è incomprensibile perché questo non sia ancora avvenuto considerando che l'interruzione dei servizi igienici non solo crea disagio ma danneggia anche l'immagine aziendale turistica ciao a tutti allora leo è ritornato è una delle pizze più buone di chioccia sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente ogni tanto un po' di pizza va bene si mangia dolcissima si scioglie in bocca domani giovedì 9 maggio sarà lanciato il progetto europeo Fish in the West finanziato dal programma Interreg Italia Croazia scopo del progetto è ridurre e gestire i rifiuti legati alle attività di pesca nel mar Adriatico promuovendo una pesca sostenibile il progetto è coordinato dall'Università di Padova e prevede studi monitoraggi analisi strategiche e attività partecipative oltre che interventi pilota che si andranno a realizzare nei porti Adriatici di Chioggia Rimini Tribuni e Brizin le attività sono partite lo scorso febbraio e si concluderanno a luglio del 2026 con un budget previsto di 2 milioni e 400 mila euro all'incontro che si terrà Palazzo Grassi a partire dalle 10 sarà presente il sindaco di Chioggia il professor Bubacco dell'Università di Padova e l'amministratore unico di SST oltre ai rappresentanti delle altre città portuali interessate dal progetto preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga gelato artigianale anche per l'asporto per gustarlo in compagnia dove vuoi tu all'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco Ricordandovi che la farmacia di turno oggi mercoledì 8 maggio è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio e alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali telegram e whatsapp Azzurra Network News Ciao a tutti Ciao a tutti